E siamo alle nostre breaking news, ben trovati subito in apertura il lutto anche in provincia di Arezzo per la scomparsa di David Sassoli, peraltro nato a Firenze ma originario del Casentino aveva un forte legame con la provincia di Arezzo, era stato presente anche per il sostegno alla candidatura di Letta nell'agosto scorso e a questo momento si riferiscono le immagini del servizio del collega Luca Tosi. Parliamo poi di attacchi Novax, un altro amministratore nel Mirino, questa volta il primo cittadino di Cortona che nell'esprimere in un post la propria vicinanza al vice sindaco di Arezzo Tanti è stato attaccato in maniera brutale da ancora tantissimi Novax e sono scattate le denunce. Chiudiamo con una bella immagine, quella del presidente della CEI, il cardinale Bassetti, attuale arcivescovo di Perugia, ex vescovo di Arezzo, che ha visitato la mostra dedicata a Raffaello il Giovane e è stato un bel momento anche perché il cardinale ha superato la positività al Covid ed è tornato in buone condizioni, quindi una bella notizia. Queste le nostre breaking news, sui nostri TG e sul nostro sito troverete gli approfondimenti. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.